Ciao a tutti ragazzi, io sono Brolmatti e oggi faremo uno scherzo al nostro amico Io ho detto che mi fingo un'amica di Brolmatti, boh chissà mai Bho chissà mai chi è Bho chissà mai 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 C'è un orto E lo porti Anna tre invented Bho chissà mai Bho chissà mai Bho chissà mai ok raga ok raga ok raga la 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 il nome veroskina ok ragazzi sono andato con la mia schiena e ho usato tutti i cartelli poi ve lo farò vedere vieni con me Sì 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 Vediamo se posso fare quello che penso Sì 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 il bambino non c'è raga, vediamo perchè non ci riega dai vediamo dai perchè non ci riega con loro perchè andiamo si ok vediamo dai che non ci riega che forse non ci riega che forse non ci riega e abbiamo il diario che c'è il delineo il bagno aiutami puoi aprire a te il bagno se lo sai se lo sai se lo sai aspetta per ora mi viene fatta aspettate raga vediamo vediamo raga perchè non fa raga vediamo vediamo raga eccola raga ci riega che raga che raga che riega che riega che riega è una cosa di sabbia Ok, vediamo. Ok, vediamo ragu. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok. Ok, vediamo. 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 this is one of us ! Ok, vediamo. Ok, vediamo. Od wraa off e negative. Non so se mi è facendo quello che ha detto che il mio fratello è pazzo. Oh, 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 perché qua c'è legno? Aiuto. Perché? Perché? Non sai neanche. Non so male, non so male quando questo video. Sono dell'argina, sono piccolina. Sono dell'argina. Raga? 7-0-0. Sì, volevo mettere qui il glenato, facciamo un bottiglio, non è che la possiamo uscire lì. Ma... Non bastate, no? Non è bagnato. Non è bagnato? No! Mamma! Mamma! Vabbè, è un incometro per morire. Vabbè, in un modo dovevo morire. Là c'è la mia cassetta, bella, bella, bella. Me contro te! Questa qua gli piace troppo nei me contro te. Me contro te! Basta! Ok, raga. Me contro te! Basta, io sto facendo un video. Mi piace a me contro te, 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 te. Dico tutti i giorni te, te, te. Ma no, raga. Mamma, ti devo fare sentire una cosa incredibile. In-incre-dib-ila. La vostra bella è un pubblico, lo vabbè a fare. Ehm... 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 Prova adesso. Ah! Che danno, che danni! Resto, raga. Ok, vediamo, raga. Ehm... Vabbè, la tenda. Vabbè, la tenda. E' chi no, me la ha detto, me la muovo la testa. Ah, sto sciamone, le magari, le gratte vigili. Ah, va bene. Ah, la, 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 la. Eh, non più. Ma c'è la... C'è anche il disco. Giorgio e Matteo. Che, raga. Vabbè, raga, il video finisce qui. Ciao!